Avvocato Randazzo, intanto le voglio chiedere, è vero che questa manifestazione di festeggiamento in onore del Santissimo Crucifisso e di Maria Santissima dei Miracoli rischiava di disperdersi? Sì, perché purtroppo sia per la pandemia che negli anni precedenti ha un poco stoppato la festa e poi si è avuto un momento di stasi. Quest'anno c'è una difficoltà nel comporre il Comitato, al che siccome abbiamo una tradizione a Caltabellotto un poco per fare la storia della festa di Pasqua che inizia con la mattina alle 5 con l'uscita di San Michele, il giorno precedente mi rega a Caltabellotto e ho chiesto così per pura curiosità chi fosse stato nominato Presidente del Comitato, ma mi dicevo non è stato nominato nessuno, ma come ho detto la festa principale di Caltabellotto che si svolge a luglio e che per tradizione il Comitato esce la domenica di Pasqua, quindi sono rimasto un poco alibito, anche un poco frastornato perché anche se abito nel territorio di Sciacca, però sempre il cuore mi è rimasto certo con Caltabellotto. Mi è arrivata forse una riflessione, un'immagine della Madonna che i caltabellottesi ci siamo legati come i saccenzi alla Madonna del Soccorso. Abbiamo fatto il suo Comitato proprio, non l'improvisato, ma quasi mi è scattato questa cosa, forse è stata anche la guida della Madonna e il Comitato si è formato con volontà, abbiamo raccolto, abbiamo sentito quattro persone a raccogliere la domenica pomeriggio di Pasqua, ma alla fine si è formato un grande Comitato. E lei è Presidente? Io, loro, neanche tutto abbiamo raccolto, poi ci siamo riuniti, mi hanno quasi autoprogrammato Presidente. Ma si è commosso? Io mi commuovo, perché la festa, chi sente la cosa, ma io lo dico ai ragazzi, perché è un fatto umano. Uno che non si commuove non è umano. Ecco, il momento clus era proprio domani? Sì, domani pomeriggio, perché la mattina viene fatta la messa celebrata con le autorità locali, invece il pomeriggio nella cattedrale, non a Sant'Agostino, ma nella cattedrale della matrice, a Caltabellotto, con la presenza delle autorità che sono nel territorio. Ieri c'è stata la processione, oggi la vestizione, domenica è il momento religioso, perché dopo l'incontro la Madonna insieme con il crocifisso viene portato per le vie di Caltabellotto, tratto via molto stretta, quindi c'è un po' di religiosità, ma si sente la processione. E poi chiudiamo con due artisti di fama nazionale, anche per i giovani, che viene sia Leo Gasman e a proseguire Biancazzei. Quindi tutti a Caltabellotto. A Caltabellotto, onorati di avervi fuori fra noi. Grazie.